Pinterest è un social media un po' anomalo, diverso dagli altri, perché i suoi contenuti sono indicizzati su Google, sia a livello di contenuti, quindi come risultati testuali, sia come contenuti a livello di immagini, quindi di visual content, sia perché la vita media di un pin si aggira sui 100 giorni, che è un'era paleolitica praticamente, rispetto a tutti gli altri social che sono poche ore, addirittura Twitter pochissimi minuti, quindi una validità ristretta all'osso, a meno che tu non utilizzi gli addivi vari ed eventuali. Ecco, con Pinterest invece già sei avvantaggiato di tuo, ma proprio di parecchio, avendo i 100 giorni a disposizione di visibilità. Poi perché è utile? Perché viene utilizzato molto all'estero per organizzare, per lasciarsi ispirare, ma soprattutto per organizzare viaggi, quindi per quello che il reparto Oreca in generale è il top dell'utilizzo. Si possono creare delle mappe, si possono suggerire dei percorsi agli eventuali turisti che decidono di venire nella nostra zona, si possono presentare servizi in maniera decisamente diversa, molto più interattiva.